La fede ha avuto alcune teorie sull'origine della fede, pensate che la fede ha evitato in umani o è sempre stato? Queste cose complesse sono basate su aspetti materialistici, tutto è spiegabile attraverso pochi concetti basati soprattutto sulla sessualità. Altri personaggi, tipo Jung, che è stato uno psicanalista che ha avuto molto più interesse per il divino e per gli aspetti spirituali, è stato trascurato rispetto alle teorie più materialistiche freudiane. Pensiamo che Freud ha vinto un premio di letteratura tedesca, non ha mai ottenuto nessun riconoscimento particolare per quanto riguarda la medicina o la psicologia.